Questa non è una ricetta, è un consiglio. Il tosto lo faccio così. Prendiamo il pane e scaldiamolo molto bene in padella. Salsa tartara, abbondiamo, tabasco per renderla piccante, mischiamo molto molto bene il tutto. Una volta che il pane è tostato, aggiungiamo il formaggio, può essere tipo una fontina. Richiudiamo e mettiamo sulla griglia a scaldare. Ora, sulla base, salsa tartara, spalmiamola bene, mi raccomando. Prosciutto cotto, abbondante, non le esigniamo ragazzi. Carciofini sott'olio, che sono croccantissimi. Riscaldiamo il tutto sulla graticola, assaggiamo. Che bomba ragazzi!